Fabio Mendolara del quotidiano La Verità, tu da settimana ti stai occupando del caso Palamara, hai alzato un po' il tiro diciamo così cominciando a pubblicare le chat dei magistrati, queste inchieste hanno scatenato un po' il Verona, hanno anche fatto aumentare la diffusione del tuo giornale, che idea ti sei fatto di quello che accade, accaduto nella giustizia italiana? Devo dire che intanto da cronista ci stiamo divertendo abbastanza a raccontarlo. Che cosa sta accadendo? Un bel pasticcio tra magistrati che si muovono così come si muovono i partiti politici per coprire le postazioni più importanti, c'è chi si raccomanda e c'è chi viene raccomandato, al centro di tutta questa vicenda c'è Palamara, ma da quello che intuiamo funzionava così un po' con tutte le correnti. Lo dice e lo conferma addirittura lo stesso Palamara, quindi alla fine ne traiamo che la magistratura si muove come se fosse un partito politico. Il quadro che ne viene fuori, cioè quello proprio dei tentativi di intromissione e di pressione sui processi, coinvolge solo alcune aree del Paese o è un problema generale che riguarda un po' tutte le regioni? No, parte dal suo vertice e quindi dai consiglieri del CSM, ma colpisce quasi tutte le regioni d'Italia. Ci sono magistrati di tutti i distretti di corte d'appello italiani, quindi è davvero molto diffuso sul territorio il fenomeno e non soltanto per le questioni che riguardano la copertura delle postazioni di privilegio e gli incarichi direttivi o semidirettivi, ma i magistrati parlano tra di loro e si confrontano tra di loro in quelle chatte anche sui processi e sui procedimenti disciplinari. Alla luce di questi episodi è cara la fiducia degli italiani nella giustizia, questo nonostante ci siano tantissimi magistrati onesti che fanno il loro lavoro in modo corretto? Questo lo dico da cittadino che un po' come tutti per questioni professionali si trova ad avere a che fare con la giustizia, inevitabilmente cala la fiducia nell'istituzione, i magistrati devono essere indipendenti ma lo devono anche apparire, devono essere super partes ma lo devono anche apparire. Ecco questo tsunami che viene fuori dalle chatte di Palamara sicuramente va ad inficiare la fiducia che può avere un cittadino nella magistratura. Un'ultima cosa, è uscito tutto? Insomma ci dobbiamo aspettare ancora molti altri colpi di scena. Se pensate che solo le chat sono 50 mila pagine, è uscito forse il 10%, abbiamo tirato fuori per ora le cose più succulenti, però io mi chiedo cosa aspettino anche tanti cronisti locali perché probabilmente ci sono delle questioni che per la stampa nazionale magari passano in secondo piano, ma per la stampa locale davvero c'è del materiale interessante, così già a dare una prima occhiata ci sono dei distretti di corte d'appello che potrebbero fornire materiale alle redazioni locali dei quotidiani davvero per moltissimo tempo. Quindi il materiale che ci ha fornito Palamara tramite le sue chat giornalisticamente ha davvero un peso enorme.